180 operatori del settore nettezza urbana, oltre a numerosi mezzi meccanici per ripulire la città. E' scattata la pulizia straordinaria, già delle prime ore del mattino, non appena il Ferclo della Santa Patrona ha lasciato piazza Cavour per dirigersi verso la salita di San Giuliano. Prima si rimuoveranno i rifiuti lungo tutto il percorso del Ferclo, un'operazione che richiede circa 8 ore. Successivamente si passerà alla rimozione dei residui di cera, un'operazione molto complicata. Operatori specializzati con ramazze puliranno le strade e poi con il cannello in acciaio con bombole gli strumenti rompicera agiranno sulle strade fino al lavaggio finale. Un lavoro straordinario che costa al comune circa 40.000 euro. La rimozione di questa cera è già iniziata e cercheremo nel più breve tempo possibile di avere tutta la viabilità ripristinata in maniera tale che si possono ripercorrere in modo sicuro le strade della città. Una raccomandazione anche in queste ore chiaramente agli automobilisti e soprattutto ai motociclisti è di transitare il meno possibile anche negli incroci. Un'operazione che potrebbe protarsi per qualche giorno dal momento che il divieto imposto dal sindaco è stato ignorato da molti come testimoniano le tante mail di protesta arrivate alla nostra redazione. Anche quest'anno l'ordinanza del sindaco non è stata rispettata? Eh sì, l'abitudine di portare per devozione questi ceri non riusciamo a contrastarla e d'altronde fa parte anche della tradizione quindi in qualche modo ci dispiace che l'ordinanza non è stata seguita ma sappiamo anche che è complicato impedire che questa tradizione continui ad essere presente in città. Le strade secondo l'ordinanza sindacale verranno riaperte al traffico regolare solo l'11 febbraio dopo i controlli effettuati tramite il grip test, uno strumento che consente di verificare l'aderenza degli pneumatici all'asfalto.